Amici di calcio pazzo, ho detto che siamo in Climaterby e voi non mi credete. E allora vi devo dare una dimostrazione. E ora vado, dai. Questa non è la tua città e te lo urlo forte, tu vive ai margini, in campagna o sopra qualche monte, siccome Roma è ospitale, ti apre le porte, tu porti in dono cacio e pino con le guance rosse, la barzelletta della nobiltà che non ha fine e su sta storia ci hanno scritto mille canzoncine che ormai davvero pure noi se stiamo a scrivere addosso, la sua squadra di Roma lo senti che è un paradosso. Quello colore o è un colore solo non capisco, invece visto quanto è bella sera l'obelisco, che è tutto quanto giallo rosso quindi senza offesa, quando ci passi fai due foto e pure una ripresa. Vincendo il mio ogni tanto è il tempo di una sigaretta, scusa che io c'era da sempre un seppato del fretta, che favo entramo e stavo fuori a farsi una piretta, poi se la vinco contro le te si era la perfetta. Quindi l'aziale torna a casa, che non te se può più sentire, quindi l'aziale torna a casa, non ce va che nel finire. Quindi l'aziale torna a casa, a nasconderti e a capire, ti inventerai un'altra scusa e nel tombino vuoi sparire. E vabbè, io mi diverto così. Adesso riceverò critiche, commenti, sotto, insulti, però io mi diverto troppo. Ma che te posso fare? Un saluto è sempre caccia faccio.